Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci con questi affari, che sono delle mascherine per la ventilazione, perché oggi vogliamo farvi vedere un esercizio molto semplice per riscaldare la nostra voce. Lei è Anna Guida, che ci aiuterà per quanto riguarda le voci femminili, perché faremo un vocalizzo per spiegarvi un po' come riscaldare la voce utilizzando questa mascherina. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, allora innanzitutto sappiamo che prima di cantare noi dobbiamo riscaldare la voce, perché una serie di muscoli, di tendini si muovono affinché noi iniziamo a fonare, cioè quindi a emettere dei suoni. Quindi è inutile spiegare ancora corde vocali, la laringe eccetera eccetera, perché sono cose di cui abbiamo già parlato, anche della respirazione da utilizzare e via dicendo. Questa mascherina è molto utilizzata per riscaldare la voce e anche per fare degli esercizi proprio reabilitanti per chi ha avuto qualche problemino con la voce e quindi ci aiuta molto a timbrare il nostro suono e a renderlo più a fuoco. Quindi vediamo come si utilizza. Potete trovare questa mascherina o in farmacia o anche online ci sono, scrivete mascherina per la ventilazione e vi usciranno, non costano molto. Ora come vedete qui c'è un foro che noi dobbiamo tappare quando andiamo a parlare dentro la mascherina in modo da creare una pressione. Quindi noi respiriamo normalmente, proviamo con Anna, prova a parlare dentro la mascherina, vediamo che cosa succede. Tappando il buco con la mano, con il palmo. Non si sente. E infatti non si sente però noi abbiamo una sensazione dentro la mascherina, cioè noi sentiamo la nostra voce e noi possiamo anche canticchiare delle frasi o contare o fare delle note a caso utilizzando questa mascherina. Se non abbiamo a disposizione un pianoforte, possiamo riscalvarla proprio così. O parlando semplicemente vedrete che la voce subito acquista più potenza. Ma proviamo ad andare al nostro esercizio. Vi facciamo vedere subito qual è l'esercizio che andremo a fare. È un semplice vocalizzo di cinque note utilizzando la lettera O faremo per le femminucce per i maschietti faremo e poi andiamo su come sempre di semitono per semitono. Andiamo Ovviamente per respirare stappiamo, altrimenti ci soffochiamo. Ok, andiamo avanti Come vedete Già, se voi a questo punto provate a togliere la mascherina parliamo È più forte È vero, già si sente che la voce si è timbrata È una sensazione come se le cavità di risonanza vengono più utilizzate quindi anziché avere una voce più ariosa, magari più flebile abbiamo già una voce più in avanti più qua Quindi andiamo avanti da questo punto Allora Facciamo ancora le altre due E così via Se sentite fatica ovviamente fermatevi prima altrimenti potete continuare ancora un po' Se siete da soli e questo esercizio lo fate per la prima volta insomma cercate di non arrivare mai all'estremità della voce perché come ogni esercizio può essere un po' rischioso fatto da solo Se invece siete col vostro insegnante di canto fatevi consigliare ma vedrete che è molto semplice fare questo esercizio Se non dovesse avere questa mascherina possiamo, diciamo, come altro metodo utilizzare proprio le mani in questo modo qua cercando di chiudere il più possibile e fare questa cosa qua Proviamo a farla in questo modo A 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